Questa era la fonderia, assemblata, perniciatura e là dietro ufficio e spedizioni. In un certo periodo qua ci lavorava a metà reggia, una città nella città. Un posto pazzesco per un revco in destino. Non azzardare nemmeno. Comunque va tirato su, devi dare una mano. Punta un'altra realtà. Pronta? Siamo abbastanza ridicoli. Io sono bellissima. Bene, siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio vero tra questi due anime che forse non sono anime gemelle, forse non sono anime sorelle. Cugine di terzo grado, ma forse. Con il rito di oggi, intendono sfidare le insidie del tempo. Ma parla come mangi. Siete voi Riccardo Tirelli e Sara Vercesi? Direi di sì. Direi di sì. Di sì, sì, ti fa fatica? Sì. Sì. Dopo questi 80-90 anni di prove in cui siete stati insieme, è ora il momento di decidere se volete condividere le vostre vite finché morte non vi separi. Ecco, si tocca i marroni e io mollo tutto. Io mollo tutto. Ma no, ma scusa, ma ti sembra una cerimonia da finché morte non vi separi. Vuoi venire te qua? Vuoi venire te qua? Vuoi tu Riccardo vivere per davvero il resto dei tuoi giorni con la qui presente Sara? Sì, proprio, proprio. Vabbè, allora andatevene a fare nel... No, 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 dai, dai, scherziamo. Scherziamo. Sì. Vuoi tu Sara, nonostante quello che hai visto e sopportato di lui, sfidare così la sorte e la logica e continuare a condividere le sfighe, diciamolo, del cui presente Rico? Gli anelli. Per i poteri infiniti di cui dispongo, io qui vi dichiaro fuori di melone, ma uniti fino alla fine. Che la forza sia con voi e con il mio spirito. Un bacio! 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 Un bacio!